È inutile pensare a ritorni di masse di turisti, non ci saranno, chi ne ha parlato ha illuso le persone, qui si tratta di far vivere la città attraverso la vita bella dei residenti e questo il mercato di rialto lo può sicuramente assicurare. È evidente che qui si deve investire, è evidente che qui si deve fare maggiore attenzione, è evidente che qui occorre far ascoltare la voce anche di chi tiene banchi del pesce e della frutta. Il mercato di rialto è entrato in crisi ben prima del coronavirus e delle acque alte eccezionali, eppure si tratta di un'area di straordinaria importanza storica e sociale. Assieme al comitato rialto nuovo, la lista civica Tutta la città insieme sostiene un ampio progetto per riportare rialto al centro della vita di Venezia. Una nuova vivacità da dare a questa realtà grazie non solo alla vendita naturalmente dei prodotti tipici, ma anche la consumazione in loco come si fa in tanti mercati in Europa. E poi l'utilizzo anche della parte alta della pescheria per poter ospitare sia un museo della storia di Venezia e della storia del mercato, ma anche per attività altre, e cioè attività di intrattenimento della cittadinanza, anche perché questo è uno splendido esempio di mercato per la città, oltre che per i visitatori. Tra le proposte ci sono facilitazioni e incentivi per le attività commerciali, per esempio nelle tariffe di acqua, luce, posto barca e tari, approdi per i clienti che arrivano al mercato in barca, semplificazioni per chi vuole consegnare i prodotti del mercato a remi e portarli a domicilio. Se il Comune ha giustamente speso milioni per il mercato di piazza Barchi a Mestre, però a rialto si è visto molto poco. Mi stanno appannando gli occhiali, come del resto si è appannata in questi anni la vista di questa città da parte del Comune e dell'amministrazione.